Ogni tanto capita che l'Alto Adige sia una delle regioni italiane dove i prezzi sono più bassi che altrove. Succede nel settore delle polizze RC Auto, dove in campo nazionale negli ultimi tre mesi si è registrato un calo dei costi pari al 2,42% con un premio medio che lo scorso novembre si aggirava intorno ai 512 euro contro i 363 del Trentino Alto Adige, dove il calo delle polizze è del 4,24%, quasi il doppio rispetto al resto del paese. Do rilevano l'osservatorio di facile.it e assicurazioni.it, secondo cui è proprio la provincia di Bolzano a fare registrare il calo più sostanzioso con il meno 6,94% registrato nell'ultimo trimestre, che stando alle statistiche ha quindi segnato un vero e proprio crollo delle tariffe, considerato che il dato riferito agli ultimi sei mesi vede al contrario un aumento dei costi pari al 4,19%. Il confronto tra le due province autonome è vinto da Trento, dove a novembre il premio medio anno era di 353,35 euro contro i 385,19 di Bolzano. L'età media del parco auto circolante in regione è di 9,02 anni, di poco inferiore a quella nazionale, che è di 9,32 anni. In regione la copertura assicurativa aggiuntiva più ricorrente è l'assistenza stradale, richiesta dalla 33% degli utenti. La curiosità sta nel fatto che, stando alle dichiarazioni fornite dagli utenti al momento della richiesta dei preventivi, in Trentino Alto Adige il 45% si dichiara virtuoso e quindi nella prima fascia di merito, mentre nel resto d'Italia i virtuosi sarebbero molti di più, il 55%.